Bene Alessandro, avevamo detto forze da gestire, ho visto una grande rotazione ma il livello sempre altissimo. Sì, stasera chiaramente arrivando da un fine settimana così intenso c'erano gestire un pochino anche le forze fisiche. Fortunatamente i ragazzi hanno interpretato bene la partita con la giusta concentrazione. Sapevamo che era una partita difficile perché il Valdagno comunque veniva da un buon momento e ha giocatori comunque individualmente di livello, giocano bene, fanno un gioco spumeggiante. Quindi è stata una partita difficile ma l'abbiamo interpretata bene. Correggimi, poi dopo io chiaramente ho solo da imparare. Primo tempo intensità eccezionale, secondo tempo una gestione eccezionale, e poi il tiro diretto forse ha cambiato qualcosa. Ma sì, il secondo tempo, eravamo d'accordo il primo tempo di spingere un po', forse un pochino per cercare di andare a vantaggio e poi gestire la partita magari a nostro piacimento con un pochino più di tranquillità. Così è stato, il secondo tempo abbiamo lasciato un paio di occasioni importanti a loro, Ricchi è stato un gamba, però abbiamo avuto comunque altre 3-4 palle, gol, come minimo pulite per poter allungare il vantaggio. Sì, la punizione di prima, non lo so, molto probabilmente abbiamo perso un pochino di concentrazione sulla parte finale, però è il pelo nell'uovo di una prestazione quasi perfetta. Anche perché è una prestazione in recupero che ci riporta più vicini a quello che dovrebbe essere la posizione, perciò insomma noi abbiamo ancora due gare da recuperare rispetto agli altri e siamo lì alle spalle delle prime. Sì, sì, ma non è che sto, non sto a fare tanti calcoli, sto cercando di trovare la quadra perfetta della squadra, sì siamo due partite in meno, però mi interessa più che la squadra faccia un passetto in avanti come l'abbiamo fatto in questo fine settimana qua e come l'abbiamo fatto stasera e poi per le partite che ci mancano e arrivare alle partite che ci mancano magari in una forma mentale più solida per poter poi magari acciuffare la vetta della classifica. Bene, io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro, ovviamente, alla prossima. Alla prossima, vai.